Signori, rieccoci qua su Rainbow! Operativi al massimo, direi! Allora, ho preso Jäger. Oh, ci abbiamo il Rook, importantissimo, signori. Lo prendiamo subito. Eccolo qua. Allora, come primo round, non vorrei fare cazzate. Quindi, magari, se stiamo dentro così grigia, non la vedo, eh. Eh, io volevo e vorrei e voglio. Ah, ci avete fatto il giretto. Ci mettiamo la cuffia. Sto dentro o sto fuori, raga? Non lo so cosa fare, vi dico la verità. Ok. Eh, però qua, ragazzi, se c'è uno entra... Ah, ci sei tu? Ah, allora, se ci sei tu... Ok. Allora, qua uno. È qua, raga. Cazzo. Vaffangu. Lo sento qua sotto. E il def è sotto? Ok. Vai. Grandi, raga. Eh, ho capito che c'è coso, ma... Ma porca troia. No, attento, Rook, ci muori. Cazzata più enorme. Oh, cazzo. No, 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 fratello, scusa. No, 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 zio, scusami. Ok, salvi, salvi, salvi. Raga, ho fatto una cazzata, ma volevo provarci perché pensavo di farcela, invece ho tipo ammazzato il mio compagno. Ho fatto due kill? Scusate, ma quando? Ah, sì, giusto. No. No, ho fatto una kill. Ma ne ho fatta una. Ci facciamo una rotation qua. Ok, tanto per essere coperti, diciamo. Se magari ci arrivano. Tanto siamo da soli qua. C'è Caveira. Ci siamo fatti una rotation. Ho il fuoco amico, raga, quindi... Stiamo attenti. Qua? Li sento qua? No! Cazzo che smirata, vaffanculo. Lo sentivo, ma non l'ho preso. Mamma, che sfiga, oh! Che sfiga! Ok, uno si sono ammazzati. Qua ne ho due. Eh, potevo stare lì, però... Che sfiga, raga! Round buttato, proprio. Anche per... Un round assist, ok. Ah, Ace l'avevo un po' ammazzato. Allora, eh. Se mi ha dato più 75. Raga, non ho cam. Non ho niente. Niente, guardiamo Caveira cosa fa, ma non credo. Beh, 1v3 è un po' fattibile, eh. 1v3 è un po' fattibile. Zio, è lì! Ma... Sono... Zio, è lì! Non ci credo. Questo qua è orbo. Questo è cieco, raga. Dai! Dai! Cazzo, è lì nell'angolo! È lì nell'angolo! Oh, cazzo! Bravo! Ah, no, era quello di prima. Frate, giocatela! Non ci credo, raga. Caveira sa... Dai, 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 dai! Oh, mio Dio! Cosa ha fatto questo? Era fattibile, beh. Cioè, uno era fermo, l'altro stava plantando. Ce l'avrei fatto anch'io, citto un botto. Beh, 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 bravo lo stesso. Ha salvato il round, quindi bravo lo stesso. Ah, c'hai paura, eh, di venire. Beccato! Beccato! Adesso sto drone qua... Me lo tengo, eh. Allora, qua vorrei fermare... Ok, perché se... Copriamo sta parte qua... Anzi, facciamo così, raga. Questa la copro. Cazzo. M'hanno visto, raga? Proviamo ad andargli dall'altra parte. Proviamo, eh. Ne sento uno qua. Dove cazzo è andato? Ok. Ok, vai. Ci abbiamo il death. Raga, è fatta, ci abbiamo il death. Mi chiudo qua. Mi chiudo qua. È fatta. Ci abbiamo il death. È fatta. Attenzione. Silenzio. Dai, 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 che ce ne facciamo. Yana? Dai che non ci vedono. Ok, oh mio Dio. Oh mio Dio. Mamma mia. Oh, beh, raga, no, beh, c'è, va, io, c'è, veramente stupenda sta partita. Abbiamo fatto il demonio. Per fortuna sono andato su, ho coperto bottola. Mamma mia. Eccoci qua. Eccoci qua. Con il nostro nomad di fiducia. Spero avete visto l'ultimo video, raga, di nomad. Stupendo. Noi entriamo da qua, eh, raga. È il mio posto questo, raga, quindi. Allora, hanno tachanka, hanno alibi. Cazzo. Questa ha fatto una brutta fine, raga. Non vorrei perderla. Ok. Vediamo. Attenti. Vai. Vai, 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 vai. Dai che è fatta. No, 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 il fuoco, il fuoco, il fuoco, il fuoco. Mamma mia. Raga, sta partita ve la metto praticamente intera perché c'è stato movimento sempre. Farò pochissimi tagli. Ma che partita abbiamo fatto, signori? 4-0, 7-1. Vittoria perfetta, ma direi super perfetta. Beh, perfettissima. Anche primo voglio l'encomio, subito. Vediamo se ci danno l'encomio. Raga, ce la siamo giocati. Veramente bene. Vediamo se ci danno l'encomio. Dai, datemi l'encomio. Oh, 2. Ah, raga, stupendo, 2-encomio. Anche noi encomiamo qualcuno. Mamma mia, signori. Raga, partita stupenda. Dovrei arrivare a bronzo adesso, se non erro. Vediamo un po'. 7-1, ma non è il 7-1, è lì tutto l'insieme che mi è piaciuta. Velocissima, cioè, cos'è? 15 minuti di video, raga. Senza tagli, in teoria. Cioè, veramente... Bronzo 5. Vabbè dai, raga. Ci sta. Adesso tanto scenderò, quindi. Bellissimo, bellissimo, bellissimo. Un cazzo di like, un cazzo di commento. E al prossimo video di Rainbow. Grazie. 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 Grazie.